La giornata odierna siamo stati attivati per i seguenti compiti il montaggio di un ponte Bailei a seguito del crollo di un ponte sulla statale provinciale numero 45 la rimozione delle macerie del ponte abbiamo richiesto il supporto di una colonna logistica del reggimento logistico che affluirà nella zona dell'accampamento che l'ANA sta realizzando assieme al personale del reggimento Genio Guastatori infine ci sarà la ricerca di una famiglia che si è dispersa nei boschi e l'immissione di una squadra soccorsi mediante un assetto dalla rotante del 34esimo torno la collaborazione riguarda non solo il corso in montagna ma l'intervento in caso di calamità e entriamo in gioco nel momento in cui c'è una necessità o una calamità qui sono state singolate due calamità diverse sia un evento legato al terremoto che un evento alluvionale e lo scopo è proprio quello di collegare l'esercito insieme all'attività di volontariato dell'Associazione Nazionale del Pino con dei numeri importanti e con il supporto che viene dato già normalmente ma questa esercitazione servirà proprio per integrare e implementare quelle che sono le sinergie operative del momento in pratica quindi qui vediamo un teatro operativo ma abbiamo visto le sale operative che seguono da collegamento e seguono da comunicazione quindi qui troverete persone diverse ma che riescono a tenere insieme grazie a una collaborazione un risultato importante che serve come diceva giustamente il comandante alla società cioè lo scopo sia di volontari che dell'esercito è quello di poter dare una mano utilizzando le professionalità che oggi ci sono e anche le potenzialità che ci sono ecco il valore aggiunto è che apparteniamo sì diciamo così a due ambiti diversi noi siamo militari e loro sono volontariato ma abbiamo lo stesso background perché anche loro io sono ancora militare ma anche loro hanno fatto il militare negli alpini quindi abbiamo un linguaggio comune che è un valore aggiunto veramente noi non vogliamo occupare spazi e competenze che sono di altre voi sapete benissimo che in questo caso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino che ha una competenza specifica però noi siamo in grado di integrare perché poi le montagne sono così vaste, l'Arco Alpino eccetera là dove ci bisogno ci siamo anche noi senza, voglio dire, pestare i piedi a nessuno quindi anche con il Corso Alpino, con il CNSS fate comunque degli altri strani sì ma infatti le dirò di più sia nell'esercitazione che lei forse ha visto durante il casta qua in Piemonte a Sestriere sia nella successiva esercitazione che abbiamo fatto nelle 5 torri quindi parliamo della zona del Cadore, sono vicino a Cortina abbiamo lavorato insieme a squadre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino anche alla squadra della Guardia di Finanza e dei Carabinieri erano tutti presenti, noi vogliamo solo fare sinergia noi siamo un assetto a disposizione del Paese ci siamo, lavoriamo insieme con tutti gli altri